e caro Claudio siamo arrivati all'epifania che come dice il detto popolare tutte le feste le porta via però non per me perché domani domani il 7 di gennaio dovrebbe essere San Luciano è il mio onomastico però da qualche anno aprendo dei calendari io mi ritrovo il 7 di gennaio San Raimondo porca miseria ma perché che c'entra San Raimondo poi scartabellando quella San Raimondo dovrebbe essere celebrato il 23 di gennaio e non il 7 di gennaio allora io stamattina ho cercato di risolvere il dubbio e mi sono rivolto a chi all'intelligenza artificiale e gli ho detto il 7 di gennaio è San Luciano o San Raimondo e un intelligenza artificiale mi ha detto seccamente il 7 di gennaio è San Luciano punto un'altra un'altra ha articolato il discorso dicendo potrebbe essere una discrepanza tra diversi calendari a causa di tradizioni e riferimenti regionali mentre alcuni calendari potrebbero includere San Raimondo il 7 gennaio è importante notare che la data ufficiale di celebrazione di San Raimondo è il 23 di gennaio si consiglia di fare riferimento alle fonti ufficiali della chiesa cattolica o a calendari religiosi affidabili per verificare le date esatte delle celebrazioni dei santi quindi chi mette San Raimondo il 7 di gennaio commette degli errori il 7 di gennaio è l'onomastico di tutti i luciani del mondo va bene eh? abbiamo detto che non si discute e non si discute e faremo un controllo sui calendari nelle case di amici e parenti per vedere cosa c'è scritto e con la penna se c'è scritto Raimondo cancelliamo mi fa fare una battuta che mi ha fatto molto ridere che non è mia ma è bella a proposito delle Befana che tu hai tirato in campo alla grande vecchietta che dice quest'anno però insieme alla Befana dato tutto quello che succede che sappiamo benissimo insieme alla Befana sono arrivati i Re Moji invece dei Re Magi hanno fatto ridere perché anche se sono risate un po' male però i Re Moji su quest'anno non l'avevo mai sentita non l'avevo mai sentita quindi abbiamo chiarito due cose importanti San Luciano domani e i Re Moji oggi basta possiamo cambiare l'argomento questo è indiscutibile ormai indiscutibile sì perché poi non ci mancano argomenti eh su cui riflettere in questo inizio del 2024 innanzitutto c'è un una riflessione di carattere generale di carattere generale il 2024 certamente segnala un ingorgo di consultazioni elettorali da un capo all'altro del mondo non ti pare? guarda io mi sono segnato dei dati che metà della popolazione mondiale sarà coinvolta in questa dichiarazione di voto quindi importante per non dire dell'Europa cioè casa nostra dove sono 400 milioni di persone che sono chiamate a votare di 27 stati ecco noi saremo in ballo a giugno gli altri paesi hanno altre date se vuole possiamo citare ma comunque sì è un anno molto importante direi che guardando avanti per il 2024 credo che sia l'evento più importante che ci aspetta date le possibili conseguenze questo è il nostro certo ma cominciamo a riflettere sull'Europa perché mi sembra che la campagna elettorale per le europee sia ufficialmente già iniziata eh con la conferenza stampa la lunga e articolata conferenza stampa del presidente del consiglio dico mi sembra che siano cominciate tante fibrillazioni a parte il fatto che secondo me il presidente del consiglio ha ricevuto 45 domande e 45 domande a 45 domande mi sembra che abbia risposto articolatamente poi uno può accettare o non accettare le riflessioni fatte però non è non è sfuggita al al confronto però subito sono cominciati dipattiti di qua e di là la cosa curiosa sarà vedere se poi eh si arriverà a questo confronto diretto che è stato che è stato paventato tra la presidente Meloni e e degli Schlein eh già ci sono battaglie tra Rai 1 ehm 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 io penso perché non dovrebbe accadere è un segnale così di confronto democratico senza vittime dovrebbe essere quindi un segnale sarebbe un segnale comunque positivo se ci fosse un confronto come avviene in tanti altri paesi e sono sicuro comunque che si avverrà come spero avrà degli indici di ascolto che che altro che il festival di Sanremo o la partita di calcio sarà la gente la gente in fila intorno ai televisioni come i vecchi tempi li lascerà doppio perché è una cosa che che non può non interessare uno scontro uno scontro allora uno scontro non sbaglio dire scontro un confronto perché ritiro la parola scontro non deve essere così no confronto democratico su temi che interessano tutti fatto da due persone stimabili che sono in grado ma anche di dichiarare delle cose interessanti e da valutare dico da parte di tutti noi cittadini in vista anche di quelle benedette elezioni europee che che cominciano presto a a riempire i nostri video e i nostri si ma un confronto un confronto perché in politica non ci dovrebbero essere nemici ci dovrebbero essere rappresentanti di linee di pensiero diverse le quali si confrontano e chissà magari confrontandosi possono anche raggiungere dei punti di vista comuni e tutti e due i contendenti o tre e quattro eccetera non dovrebbero mai perdere perdere la visione che tutto quello che fanno e sono stati eletti per andare a fare dovrebbe essere nell'interesse del paese intero comunque la pensi a destra a sinistra al centro eccetera eccetera no? non ti prendi? hai esposto una bellissima visione etica auspicabile per tutti anche se sappiamo benissimo che poi dentro ci sono dei rubagalline dei seminazizzani e sappiamo benissimo potremmo fare un lungo elenco di nomi che deludono molto e gettono veramente un discredito su una categoria che invece potrebbe anche avere un suo riscontro etico proprio da non buttare via parlo certi politici certi uomini impegnati in quello che tu hai detto prima il benessere del paese perché ce ne sono adesso è più facile fare la critica dell'elogio ma ci sono questi personaggi che si battono per un principio etico di welfare e di socialità e di senso dello Stato purtroppo però poi c'è gente che voglio dire una battuta troppo facile che gira con la pistolina quella dei guest dei film americani per signore non sai queste piccole emozioni sono queste immagini che veramente danneggiano tanto la categoria anche la danneggiano certo 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 poi uscendo uscendo dall'europa ci sarà ci sarà la russia che andrà a voto che Putin lo vedi come è diventato tutto più rilassato più allegro ringaluzzito da quando è scoppiato è scoppiato il macello di Hamas in Medio Oriente allora lui ormai si sente più forte lancia centinaia di missili ogni giorno contro l'Ucraina no scusa Luciano posso dire lancia roba non sua come missili e droni missili che arrivano che arrivano dal nord da No Corea non al nostro tragico Kim arrivano dall'Iran che tra l'altro l'Iran sta facendo delle minacce a me vengono i brividi perché poi alla fine se vogliono possono fare delle cose orribili e terribili di terrorismo nel mondo come l'ho già fatto e come speriamo non facciano ancora però ecco lui con i droni iraniani con i missili nordcoreani e si fa bello anche sfruttando questa situazione internazionale che ha appena citato questa popolarità decrescente del fattore ucraina e aumenta altre cose e quindi lui ringaluzzito l'ingiovanizzo sparacchia più che mai ma è più pericoloso di prima è più pericoloso di prima teniamone conto e sembra da tutti gli opinionisti e da tutti i sondaggi che vengono fatti inevitabile che Putin venga rieletto per altri anni di fatto si consolidi come uno zar del terzo millennio ma poi ci sono gli Stati Uniti ora dico pensa che oggi è il 6 di gennaio e il 6 di gennaio di anni fa ci fu Trump con tutti ci furono tutti i sostenitori di Trump che fecero l'assalto al Campidoglio che dopo aver fatto un'operazione del genere per carità c'è da dimostrare che sia stato lui direttamente a organizzare il tutto ci sono ancora dei giudizi in corso però insomma certamente non si è opposto a tendenze di questo genere eppure eccolo lì che si presenta come candidato ancora alle elezioni negli Stati Uniti presidenziali. È veramente incredibile anche se già alcuni stati hanno posto il vetto sulla sua candidatura e fa piacere vedere che esistono queste prese di posizioni però onestamente mi sorprende e ci fa capire come gli Stati Uniti siano un paese complicato e difficile da capire e anche da affrontare perché ci sono queste forze che si contrastano all'interno che poi danno questi risultati perché altrimenti Trump, uno che ha organizzato l'assalto al Campidoglio vederlo candidato sorprende molto. Cioè da noi con tutti i difetti che abbiamo non sarebbe successo, non sarebbe successo. Sì, ma il problema è che poi dipenderà molto dalle elezioni nel Nord America, poi dipenderanno tante altre cose, dipenderà anche l'esito della guerra in Ucraina perché se va alla presidenza qualcuno il quale comincia a tagliare gli aiuti militari all'Ucraina il discorso è chiuso e noi in Europa dobbiamo stare un po' vigili perché poi di fatto pensiamo sempre all'America che ci dà una mano, le forze americane e un'Europa del genere, però poi quello dell'Ucraina è un problema nostro, è un problema europeo per cui l'Europa sotto un certo profilo si deve rafforzare, deve riuscire ad avere maggiore voce in capitolo, deve riuscire diplomaticamente a gestire ancora meglio le situazioni e unitariamente. Come hai ragione, perché i conflitti che sembrano lontani, quelli non dico del Medio Oriente ma addirittura dell'Oriente in realtà hanno un'influenza sull'Europa, basti pensare ai recenti problemi delle rotte commerciali, le rotte navali commerciali che possono essere in zone suscettibili di attacchi, interventi e lotte di paesi che sarebbero lontani ma che poi fermano le rotte commerciali che riguardano l'Europa. Quindi voglio dire, questa rete di globalizzazione ormai, quando si è parlato del grano dell'Ucraina all'Africa, si parla di altre cose verso l'Europa, queste rotte che erano state costruite in modo virtuoso a sostegno dei mercati internazionali pacifici, vengono compromessi tutti, quindi siamo tutti, l'abbiamo visto con la storia dei chip, delle auto che hanno fermato, danneggiato l'industria automobilistica europea, c'è un lungo elenco di rischi che andremo a pagare comunque. Certo, e con le rotte lo stiamo vedendo, quello che sta accadendo nel Mar Rosso in cui si cerca di ostacolare il passaggio di navi che poi sono dirette verso Israele e allora sono schierate forze americane, c'è anche una forza navale italiana tra l'altro, c'è anche una nave ospedale italiana la quale sta cercando di sostituire quegli ospedali che dentro Gaza a causa dei bombardamenti non sono più così operativi, per cui dar rifugio a tanti feriti durante la guerra che si sta svolgendo su Gaza e provocata, provocata, su questo è inequivocabile, provocata dall'attacco di Hamas del 7 ottobre che è stato un attacco razzista nei confronti degli ebrei, i quali gli israeliani hanno reagito, cercano di fare loro meglio per non coinvolgere troppo la popolazione civile, ma è inevitabile coinvolgere la popolazione civile in una realtà in cui Hamas ha creato tutta una serie di cunicoli sotterranei che tra l'altro vanno a rifinire, guarda caso, in ospedali, in scuole, insomma c'è una rete costruita negli anni che è incredibile insomma, no? No, no, è tutto quello che sappiamo, ma è tutto anche difficile da gestire, questo è il vero problema, la difficoltà di gestione di questi problemi internazionali che richiedono tanta buona volontà, tanta buona volontà. Senti, vuoi prendermi una nota di economia se è il momento giusto, un segnale piccolino, ma noi siamo attenti anche ai segnali piccolini dell'Istat che riguarda l'Italia, che segnala questi piccoli più, in questo caso meno dell'inflazione che pare sia un po' scesa, del potere di acquisto che sia un po' salito, dei consumi che si non possono essere, quindi piccoli segnali però non allarmanti, ma se vogliamo incoraggiarli. Anche se bisogna dire in vista del 24, così come mi ha fatto un discorso a ombrello per le votazioni, c'è un discorso anche a ombrello di economia, che l'economia che interessa a tutti, perché poi lo scopriamo andando a fare la spesa col carrello, in realtà è nelle mani della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea, come nelle mani con la gestione dei tassi, le scelte di politica dei tassi, che possono salire, scendere, rimanere uguali, ma non è la stessa cosa, perché queste scelte poi influenzano sul costo del danaro, che influenzano sui consumi, che influenzano sui mutui, ecco la catena è questa. Cosa succederà? Non lo sa nessuno e è in mano a loro, alle grandi banche. Io sono molto preoccupato, perché non sono rimasto molto soddisfatto di come si è comportata l'Europa a questo livello nel 2023, ho tanta nostalgia del nostro caro Draghi, speriamo che un po' della sua saggezza o del suo coraggio venga fuori nell'interesse dell'Europa in generale, della popolazione europea e non tanto delle banche e dei finanziari europei. Ma poi le elezioni che ci sono nel mondo ci sono anche in India, se non sbaglio. C'è un elenco di altri paesi importantissimi, perché non dimentichiamo che l'India, che sta un po' così acquartata, in realtà è pronta a essere già sulla scena economica e politica internazionale, perché ha superato la Cina come incremento del PIL e cose, quindi ha una grande potenza, bisogna vedere se Cina e India si uniscono diventa un problema, ma comunque anche le elezioni in India che temo non saranno facili, perché poi è un paese caldo, nel senso che poi vanno nelle strade a fare manifestazioni anche pesanti. C'è tutto un discorso da valutare, forse noi europei non abbiamo una grande dimestichezza con le logiche così proprio orientali, anche se la storia ci ha portato in quei territori in un modo anche che ha lasciato un segno storico e molto interessante che ancora oggi ci può coinvolgere. Però qui ci sarà un'altra pagina veramente da seguire con un grande interesse, perché avrà delle conseguenze importanti. Altra pagina da seguire è quella di Taiwan, perché anche lì ci saranno delle elezioni e il presidente cinese Xi Jinping ha ribadito che Taiwan fa parte integrante della grande Cina, per cui stiamo un po' a vedere quello che accadrà e come si svilupperà la situazione, speriamo che non si ripeta a livello taiwanese quello che sta accadendo in Ucraina alle porte dell'Europa. Insomma c'è una certa fibrillazione, anche se devo dire i cinesi mi sembrano un pochino più equilibrati oppure un pochino più prudenti nelle loro azioni, nelle loro strategie rispetto al loro alleato Putin in Russia, non ti pare? Non ricordo con te, diciamo che è un prudente opportunismo, è una prudenza che c'è, ma una prudenza opportunistica perché stanno a vedere che succede, wait and see, wait and see e sono sicuro che Taiwan un momento o l'altro salterà fuori perché l'hanno annunciato e sono lì in agguato, la tigre è in agguato, speriamo che il bazzo non sia di quelli brutti alla Putin, così speriamo, ecco la speranza. Invece tornando a noi a casa nostra, se vogliamo due episodi di costume più che di politica ed economia che mi hanno colpito e forse anche tu mi hai segnati, è il discorso della fuga degli sponsor dall'azienda Ferragni, dal Brent Ferragni che insomma non è una bella cosa, non è una bella storia, ma comunque è un mito che si sta un po' sfaldando. Sì, è il segnale della nuova economia, nel senso che diversamente dalla vecchia economia, con chi nasce e sbolcia in internet attraverso il gioco dei like, si trova in un terreno molto ma molto fragile, che puoi essere al top dei top, però in 5 minuti le cose possono crollare, cioè ci sono delle basi molto ma molto fragili. Invece un altro episodio di costume italiano purtroppo che si sta diffondendo e questi giovani che non sono, non lo so, hanno 24 anni, dovrebbero essere degli ometti insomma, no? Già un po' maturi e invece si scopre per Capodanno che a Milano ci sono tre giovani sui 24 anni circa che così hanno giocato stendendo un cavo d'acciaio a 75 cm da terra che sbarrava con il cavo d'acciaio una strada molto importante e molto trafficata a Milano. Ma perché? Ma perché? Perché volevano vedere quello che accadeva? Insomma fortunatamente una persona da una finestra di un palazzo ha visto quello che accadeva, ha chiamato il 112, sono subito intervenuti e soltanto un'automobile è andata a sbattere contro questo cavo e non è scoppiata la tragedia. Io di fronte a fenomeni di atteggiamenti così fuori dal mondo, secondo il mio mondo, io proporrei di prendere queste persone e non condannarle ad andare in carcere, condannarle a seguire degli approfonditi corsi di insegnamento dell'educazione e degli elementi basilari, del comportamento civile, ma seguirli per imparare quello che a casa loro evidentemente nessuno è stato capace di insegnare. Non ti pare che sarebbe forse una strada migliore di un carcere, dove magari questi giovinastri si trovano insieme con altri personaggi da molto ancora peggio di loro, per cui peggiorano anziché migliorare e imparare e ridimersi. E poi scusa, anche un'altra forma di educazione o rieducazione è sempre quella, soprattutto nei giovanissimi, far capire la differenza fra il reale e il virtuale, perché se mi permetti questi scherzi fanno pensare un po' ai cartoni animati, ma non è così poi nella realtà. Mi viene in mente, non è passato tanto tempo quando c'è stato il famoso caso Mario, quel personaggio di animazione che volava, per cui ci sono state delle tragedie gravi di bambini, di ragazzi che sono volati dalla finestra perché il loro idolo volava, quindi anche loro volavano. Eh sì, non hanno capito questi qui, nella realtà che non è un gioco elettronico la vita e quello che ci circonda. Cioè se una persona l'ammazzi non è che poi passi e ricominci un altro gioco e questa persona è di nuovo viva e pimpante eccetera. Se una persona l'ammazzi è morta insomma. Una cosa, le dico una cosa che mi ha fatto inorridire quando mi sono avvicinato anche io ai videogiochi e così, scoprire questo concetto per me è orribile, che c'è la prima vita, la seconda vita, la terza vita. Ma non c'è la seconda vita, la terza vita, sai che nei giochi così c'è questo passaggio di categoria, prima vita, seconda vita, no non c'è seconda vita. Se ti freghi nella prima vita sei fottuto, hai capito? Io ho una cosa che mi ha fatto inorridire questo, le vite nei videogiochi. Cioè è una sola. Senti, fammi dire due parole su Rivera perché ti dirò Rivera e il Milan, io di famiglia noi siamo stati fan del Milan, siamo stati perché mio papà addirittura ha giocato nei pulcini della squadra e io l'ho deluso perché non sono mai stato uno sportivo, però non l'ho deluso del tutto perché io da giovane, quindi senza barbara, lui si sentiva dire che io somigliavo a Rivera e lui era contentissimo di questa somiglianza del figlio col grande campione, anche se io mi dedicavo più ai libri, al giornalismo e alla letteratura che non al calcio. Però ecco, ma perché ti cito Rivera e il Milan che io seguo sempre con simpatia? Perché c'è stato questo caso che forse anche tu hai seguito della contestazione di Rivera, grande campione, sui suoi oggetti cult che appartengono a lui in quanto grande campione, in quanto hanno fatto delle statue, dei doni che la squadra però ha messo dentro una specie di museo e lui giustamente adesso li chiede indietro, ma non glieli vogliono dare, insomma speriamo che se li possa riprendere e se li mette a calcio su. A dire la verità non sono molto particolarmente affascinato nel calcio, tutt'al più seguo le partite della nazionale, anche se devo dire che giornalisticamente parlando il mio primo articolo che ho scritto proprio agli albori quando ero ancora adolescente lo scrissi sul calcio, su di una partita di calcio che il Siena vinse contro l'Anconitana e mi ricordo che uscì con questo titolo, l'Anconitana ha lasciato le penne sul campo di Siena. E' un calcio, questo è un ritaglio calcio che avresti appena incominciato nel tuo studio, l'unico articolo di sport di Luciano Simonelli prima che si dedicasse alla verità di Torino. Io direi di concludere oggi che è il primo intervento che facciamo all'inizio del nuovo anno di questo 2024 semplicemente dicendo che auguriamo tante cose belle a tutti gli amici che ci seguono, continuano a seguirci pazientemente e ci sono degli amici i quali continuano a scrivere ma mettetevi in politica, buttatevi in politica eccetera. No no ragazzi miei, lasciamo la politica a chi la vuole fare. Noi ci limitiamo, vero Claudio, a discuterne, a discuterne però con il piglio dei cittadini comuni senza tanti dirignai di quelli che si improvvivano, sono esperti di mille cose quando non sono esperti se non di un po' di propria saggezza, se naturalmente l'educazione in famiglia non l'hanno ricevuta adeguatamente o se non hanno letto un po' di libri, se non hanno studiato adeguatamente forse avranno meno da dire di quello che abbiamo da dire noi che siamo arrivati a 81 anni avendo letto, avendo sbirciato tante cose, avendo sperimentato tante cose credo con grande serietà, non ti pare? Mi pare sì, mi pare sì, io dimostro la bontà d'animo adesso andando a consolare i re-mogi cercando di tirare sul morale e farli ritornare re-magi almeno con un welcome nel loro ruolo primario re-magi, non re-mogi Arrivederci amici, arrivederci e non dimenticate che domani è il mio onomastro Ah, sono, sono, sono Sali auguri che ricercherà, chi sa gli auguri Sceglie di maschio sotto le finestre Arrivederci, buon 2024 amici miei Grazie a tutti Ciao